La squadra casettana con De Nino, con Cioppa che va in paleggio, poi serve Kuvjekalovic, ancora Cioppa, ancora Kuvjekalovic, gioca uno contro il pallone a Bologna, si alza, tira, va Asbay con Cioppa. Rende sta difendendo bene, infatti è molto aggressiva. Vediamo Mastroianni. Kuvjekalovic, Vagodonavicius, ancora De Nino, ancora Kuvjekalovic, è a zona difesa del Rende, c'è la bomba di Mastroianni, va Asbay, 27 punti per lui. Marcus, ancora Del Vaglio per casetta, taglio di Marcus, riceve in questo momento, è a zona la formazione del Rende e c'è la bomba di De Nino che va a sbagliare, l'imbalzo di Marcus che va a sbagliare però da sotto. Abbasso un po' il quintetto, l'allenatore Caprio ha messo dentro un altro giocatore, Peperino, che si incarica di marcare Cioppa. Kuvjekalovic per De Nino, De Nino serve Kuvjekalovic sotto canestro. Quattordici alla fine del secondo quarto. Marcus serve Cioppa in attacco per Mastroianni sotto canestro. Di squadra per il circola, la sette in attacco adesso, De Nino prova. Cioppa, per la cioppa, perdone, adesso Mastroianni per Kuvjekalovic, si ferma e tira, peccato. Greco, Marcus, Mastroianni da tre punti. Ma di Totoro che non va, il rimbalzo di De Nino, Bogdanovicius che va a scallare, rimbalzo di Kuvjekalovic. Cioppa, si butta dentro, Marco e varia aeree, palla vacante, la recupera De Nino. Poi per Mastroianni, ancora De Nino, scambio, molto, rimbalzo e... Tira, sbaglia, rimbalzo di Marcus, contropiede, Bogdanovic, sbaglia, rimbalzo e di Greco, Marcus, De Nino, in angolo Marcus, Bogdanovicius realizza. Numero 16, Frascati a sottomisura. De Nino si butta dentro, Cioppa, De Nino, ecco vediamo Cioppa da tre punti. A sette il punteggio in questo momento. E Marcus che serve a Greco, Greco per Cioppa, Cioppa scarica ancora per De Nino e poi sotto per Marcus sul quale stava commettendo fallo. E' un'ospite, Kuvekalovic, Kuvekalovic gioca uno contro uno, si ferma da due, si alza, tira. Vogliono evidentemente rallentare il gioco della squadra casertana, costringerli poi ad affrettarli una volta raggiunta la metà campo avversaria, ma ci pensa Kuvekalovic con una calma olimpica a mettere dentro due punti. Si proietta a cadesto, Marcus gli sfugge il pallone, fuori per Kuvekalovic da tre punti, tira e realizza. Per De Nino, Kuvekalovic da tre punti, c'è la bomba! Kuvekalovic, tutto per Caserta, vediamo De Nino, va al tiro, va a realizzare il termine del primo quarto. Kuvekalovic, la stoppata di Bagdonovicius, che per Marcus, in semi gancio, tira, va a sbagliare, Bagdonovicius prende un rimbalzo. Cioppa, va al tiro, va a sbagliare il rimbalzo di Kuvekalovic, di Bagdonovicius, che realizza. Sbaglio, De Nino, Greco, la bomba di Greco, va a sbagliare, c'è il rimbalzo di Marcus. Dopo vediamo, ancora Marcus, tira e realizza. Anni porta palla per Caserta, supera la metà a campo, serve Marcus, Marcus per Kuvekalovic, ancora Marcus, si alza e tira. Dalla media di Sbaglia, rimbalzo di Marcus, poi ancora Del Vaglio, dalla lunetta, si alza, tira e realizza. Kuvekalovic, serve Marcus in angolo, poi taglio e canestro di Del Vaglio. Cioppa da tre punti! ...che ci ha provato, ma con poca fortuna. Caserta ne attacco adesso, De Nino sotto canestro, scarica fuori per Kuvekalovic dall'angolo. Cioppa da tre punti, assegno. Ancora Cioppa, Cioppa si butta dentro, si alza da due punti, tira e realizza. 52-41 il punteggio. Bagdonovicius, De Nino, Cioppa, la bomba... ...quindici risultato, manca un minuto alla fine del primo quarto. Marcus, per Cioppa. Serve Pasquale Greco. Scarica per Mastro e Anni, da tre punti, assegno. Difesa della Juve Caserta, schierata. Un fallo commesso al numero 12. Non commentare, dalle immagini ve ne accorgete. Se so voi capite la pazienza di seguire questa partita. Io sto raccontando. Spognamiglio. Per De Rosa, ancora palla a De Rosa, serve Cotena sotto canestro. Il numero 17 adesso Cotena scarica fuori per raccomandargli le sue lamentele. Cerco in attacco adesso, con il numero 6. Questa zona della squadra di Cerco. La... Il numero 15 adesso, che cerca spazio per servire i compagni. Diceva ancora palla dal numero 6. Scognamiglio tenta il tiro, ma il pallone si ferma sul... 56-40 il punteggio adesso. Schieramento a zona per Caserta. Cerca da in attacco con il numero 15, Murra. Che scarica, cerca di servire il numero 20. Da questi al 12, De Rosa. Tira De Rosa, palla. Recuperata da Aubert sotto canestro. Poi ancora Murra da tre punti, ma... ...del Cercola. In attacco... ...con il numero 17, Fiore. Da tre punti... E il De Rosa, che adesso serve Murra, come sempre. Cotenà riceve il pallone. Siamo... ...sulla linea dei tre punti. Manovra perimetrale, adesso serve Cotenà sotto...